Fin qui la preziosa testimonianza del dottor Canino, ma cerchiamo di spingerci oltre, cercando di ricostruire un mosaico che sì, manca di numerose tessere, ma che da ogni modo nasconde un'uniformità di fondo, celata nei millenni. Ma andiamo con ordine. Abbiamo citato un reperto che potrebbe essere correlato alla figura dell'elefante di Campana, il nomolo scoperto dal geologo Angelo Pitoni. Rappresenta la figura di un gigante con tratti antropomorfi in sella con Elephants Anticus. Chi era costui e perché dovrebbe essere importante nella lettura delle pietre di Campana? Angelo Pitoni era esperto in pietre rare, esploratore di luoghi remoti, scopritore di miniere e scopritore di reperti archeologici unici anche in Africa, la Skystone, la Dama del Mali e i nomoli. Quest'ultimi scoperti durante la valutazione di giacimenti minerari. Pitoni, dopo aver dialogato con alcuni capi tribù della zona, venne a conoscenza di un mito locale molto simile come concetto a quello dei Nefilim in Mesopotamia. I mitici Angeli Caduti, di cui si parla anche in varie culture. Nel racconti locali si fa menzione a uomini in pietra, come gli angeli che è la scaglione dell'abisso. Durante gli scavi in un sito alluvionale a pochi metri di profondità, vi venne infatti le prove di queste leggende, i nomoli appunto. Statuette di granito alte dai 20 ai 40 centimetri, alcune cave che rappresentano soggetti con struttura antropomorfa, ma che evidenziano anomalie stilistiche, piuttosto evidenti e non riconducibili a tecniche costruttive o doctore. Il topos nomolo è molto aderente al topos nomi, termine usato dai dogon per indicare gli esseri con la pelle luccicante provenienti da Sirio B, giunti dal cielo in Africa in tempi remoti. Dopo un'analisi al carbonio 14 degli strati del terreno in cui si trovavano, sono state fatte risalire a un periodo compreso, fra gli 11.000 e 12.000 anni fa. Un periodo in cui l'uomo, almeno secondo la storia ufficiale, non poteva scolpire il granito né renderlo cavo, inserendo sfere di acciaio cromato senza evidenti aperture o segni di assemblaggio. Se accostiamo la rappresentazione del nomolo alla figura dell'elefante, notiamo subito delle somiglianze sorprendenti quando focalizziamo l'attenzione sulle proporzioni del cavaliere. In entrambi i casi, tralasciando le differenze di scala, il cavaliere è una figura colossale e gigantesca, molto più alta dello stesso elefante. L'elefante di Campana è di fatto in quella scena un mezzo di trasporto simbolicamente e forse anche oggettivamente adeguato ad una figura così grande. E non solo. A pochi metri sono presenti delle gambe ciclopiche di un'altra figura colossale, la quale potrebbe essere accostata all'iconografia delle divinità sumere con il corpo da sfinge, così come le si vedono all'ingresso dell'antica città di Ninive. Si potrebbe anche dire che le gambe ciclopiche potrebbero appartenere ad una figura antropomorfa, che sembra seduta su un trono. Sediamo per buona la similitudine che si ha nel paragonarla ad un regnante o addirittura ad una divinità egizia o sumera. La scena quindi ricorda la ricostruzione di un avvenimento, che potrebbe essere la consegna o il ricevimento di un dono fra le due figure di Campana. Ma perché esseri così grandi? Se leggiamo i miti con occhio mistificato, o ci fermiamo ad un'alisi psicototemica, quindi mistificante, non ci sarebbe molto ad aggiungere. Ma se analizziamo il dato di fatto, come rappresentazione fedele di un evento, le cose cambiano. Ricordiamo le fenomenali scoperte del dottor Zakaria Sikshin in ambito storico sulla genesi della cultura tavica del mondo e delle sue origini celestie. Ricordiamo l'opera ciclopica sommersa presente in Giappone, agli onaguni o inspiegabili, come in Bolivia nel sito di Puma Punk. Ricordiamo le recenti scoperte del dottor Klaus Dona in Ecuador, in cui vi sono rappresentazioni di una cultura avanzata e con oggetti che ci riportano una memoria storica, nella quale sembrano essere vissuti realmente degli esseri umani con proporzioni giganti e conoscenze planetarie. Ma questi esseri giganti sono esistiti realmente o sono esistiti esseri grandi nel senso di superiori? Esseri quindi capaci di lavorare le rocce più dure, vetrificarle, disporle con tale precisione che il cosiddetto uomo moderno non potrebbe neanche fare a scala ridotta. Esseri superiori che hanno donato parte della loro sapienza o essi stessi artefici di opere non ancora spiegabili? Queste e altre domande rimangono ancora aperte, ma di sicuro questa è la nostra prima freccia, scoccata con forza e precisione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.